. Benvenuti al Sira Games, viaggiatori! Io sono Grizzini, lui è Marco, il mio cameraman, infatti questo che sta tenendo la telecamera è il sobraggio! Una panoramica? Aspetta che... Non si, ok? Non si, ok? Ready. . 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 Grazie a tutti. Drop. Yeah, drop. No! No! Idromele, ma non barricato, plasticato. No! 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 Grazie a tutti. Cari viaggiatori, siamo in uscita dal Syrah Games. Abbiamo sudato sette camicie, letteralmente! C'è un caldo allucinante fuori, come vedete dal tempo nuvoloso, fa freschino, quindi cercavamo di equilibrarci. Ogni tanto uscivamo a pigliare un po' d'aria, poi rientravamo a pigliare un po' di sudore. E siamo appiccicose al punto giusto. Ok! Adesso, se ci infariniamo, ci possiamo già friggere. Comunque è stata un'esperienza interessante. Positiva, positiva. Certamente non è stata la dimensione enorme dell'Etna Comics, però c'era un po' di tutto. interessante gara di cosplay, interessante presentazione di ospiti di YouTube. Wow! Sono stanco morto! E io ti ricordo che la mia macchina è là! E la mia è là, pensavo che fosse un po' più avanti. Va bene, ci vediamo... ci vediamo a casa mia! A tutti i nostri amici, allora! Ciao a tutti, a dopo!